Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi e da oggi siamo qui ritornati su Fortnite con una nuova challenge dedicata all'evento finale di questa stagione. E sì ragazzi, perché oggi abbiamo messo questa skin che si chiama proprio Tempesta di Sabbia, per fare una challenge inerente alla Tempesta di Sabbia che sta per probabilmente ricoprire tutta la mappa di Fortnite. Ed è una roba abbastanza tosta, eh, potrebbe essere più difficile di quel che sembra. Prima di continuare col video, però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato alle cose oggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzi, è davvero fondamentale per supportarmi, quindi controlli ad esempio che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccato anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie però di guarda a chi lo farà, è fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciando un bel mi piace per supportare queste challenge. Ora mettiamo pronte e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Allora ragazzi, quello che dobbiamo fare è molto semplice. Dobbiamo andare addosso alla tempesta, finché posso andare devo andare, dopodiché appena arrivo al punto più lontano dove posso arrivare fisicamente sulla mappa di Fortnite vicino alla tempesta, devo rimanere fermo, toccare l'acqua e poi posso iniziare a giocare. Quindi praticamente mi perdo tutta la fase iniziale di loot della partita. Ed è per quello che ho scelto di farla in no build perché così almeno non ho perso tempo a lootare i materiali. Allora, non so in realtà quanto mi convenga scendere perché non so effettivamente fino a che punto posso arrivare. Allora mi metto un ping qui, che almeno mi aiuta a capire se poi mi sto continuando ad allontanare perché non so se lo sapete, ma immagino di sì. Non è che tipo puoi andare dove vuoi, cioè ovviamente non possiamo arrivare fino alla tempesta. Però ad un certo punto verremo bloccati da una sorta di muro invisibile, cioè noi non potremo più andare avanti, però tipo senza un ping potremo anche non accorgercene. Ok, cioè per adesso noi ci stiamo allontanando dal ping per esempio, però a un certo punto, ecco, mi sa che da adesso non lo stiamo facendo più. No, no, ok sì, ci stiamo ancora allontanando, ci stiamo ancora avvicinando. Attenzione, stiamo uscendo fuori, ok. Ma mi sto ancora muovendo, siamo sicuri? Sì, perché i metri continuano ad avanzare, però ho la sensazione di non riuscire ad andare più avanti. Ah, mi sto allontanando, raga, perché è come se stessi tipo strusciando sul muro invisibile, quindi in realtà ci siamo. Cioè io devo fermarmi qui. Ok, quindi devo toccare l'acqua qua sotto, ragazzi. Bene, mi si è già riaperto il deltaplano. Questo potrebbe essere un problema, ragazzi. Questo potrebbe... Ma poi perché mi si è già aperto il deltaplano? Cioè di solito quando stai tipo sopra l'acqua in zone basse della mappa ti si apre proprio all'ultimo. Mamma mia, sarà difficilissima, raga, sta challenge. Cioè io adesso devo aspettare, appunto, di toccare l'acqua. Eh, vedete, sì, non posso più andare dietro. Non posso più andare verso... Madonna, raga, che ansia! Questa però è la safe, eh. Cioè questa è la... è la tempesta di Fortnite. Non l'ho... Oddio, non ci ho mai fatto caso. Da quanto l'hanno modificata? Che mi ricordo, raga, una volta feci un video... Ma parliamo proprio della stagione 1 del capitolo 1. Cioè proprio di anni e anni e anni fa. Questa è la tempesta di sabbia, però, eh. Dove praticamente puntavo ad andare, appunto, nel più lontano possibile, nella map, eccetera, eccetera. Però era diverso, poi, l'effetto della tempesta. Poi, ovviamente, non ci sono più tornato così tanto lontano e va bene. Ok, raga, adesso si nuota. Perfetto. Questa, ripeto, è la tempesta di sabbia. Nel momento in cui uscirà questo video, raga, potrebbero anche essere modificate delle cose. Potrebbero essere cambiate, visto che è una sorta di evento finale a fasi. E quindi nel momento in cui io sto registrando, tempo che poi il video, appunto, si pubblica, eccetera, eccetera. Chiaramente potrebbero succedere delle cose. Per esempio, io sto video lo sto registrando lunedì. E quindi, il tempo che poi uscirà su YouTube, potrebbero cambiare delle cose. Ma tanto starò sicuramente facendo anche delle GG News. Magari è uscita una anche ieri. Recuperatevi anche tutti i video che vi siete persi. Che sicuramente vi sto tenendo aggiornati con tanti altri bei video. Detto questo, raga, pensavo di perdere più tempo, in realtà, eh. Alla fine della fiera pensavo di perdere molto più tempo, invece no. Sicuramente rende la partita un po' più difficile. Però poi alla fine della fiera pensavo fosse un po' più complicato. Cioè, pensavo, per esempio, che la tempesta riuscisse a colpirmi, eccetera, eccetera. Invece, invece no. Oh, pat... Ah, no, vabbè, però qui ci sono i bot, eh. Quindi questi potrebbero anche essere semplicemente il boss con gli scagnozzi, esatto. Eccolo qua. Perfetto. Ah, addirittura quello lì con la card già abbiamo ucciso, perfetto. Ok, così ci apriamo subito anche il mini bunker, va? Ok, ragazzi, eccoci qui. Oh, un bel pump epico, sì, ci sta. Preferisco quest'altro, però, se quello lo troviamo epico, ci prendiamo questo qui. Facciamo così. Eh, per il resto, raga, dovrei farmi le cura bomba, però per ora aspetto. Cioè, sinceramente, sprecarle tutte e sei così mi sembra un po' eccessivo. Quindi per adesso ci facciamo i lingotti d'oro. Cerchiamo degli scildini o uno scildone, qualcosa, e poi vediamo come pullarci. Vabbè, per ora abbiamo trovato dei funghi. Qualsiasi cosa ci dia scildo, ovviamente per ora la sfrutto. Oh, eccolo, ecco... Oh, no, gli scildini, lo sapevo io. Tanto è sempre così. Poi metti i scildi in qualche modo, poi, tac, trovi gli scildini. Ah, dov'è il co... Eccolo. Ok, perfetto. Non ce ne dovrebbero essere più. Spero non ci sia atterrato nessuno qui vicino, ma non mi sembra di sentire spari o aver visto gente atterrare fino a qua giù. Anche perché in pubblica, raga, qua davvero, ma chi ce viene? Già in ranked potrei capire perché effettivamente ci sta il mini bunker, vengono puntati parecchio, eccetera, eccetera, però in pubblica. Tra l'altro, ragazzi, mi aveva anche detto molto bene con la safe, perché... Cioè, praticamente, la safe è qui. Ma infatti, raga, sta challenge sarebbe stata molto complicata se fossi stato sfortunato con la tempesta. Cioè, se fossi stato molto sfortunato con la tempesta, probabilmente sarebbe stata molto più complicata. Perché c'era la tempesta, appunto, perché dovevo sbrigarmi a lutare, per tante ragioni. Invece, raga, alla fine, cioè, praticamente, ho lutato tranquillamente. Non sono neanche... Non ho neanche dovuto toccare la tempesta, quindi. Tutto nella serenità più totale. Raga, passi? C'è uno? Oddio, mi stanno anche mirando. Sono in due. Mamma mia, ragazza, sta mitraglietta mi piace troppo da usare per sparare in no scoop. Ok. Ecco il compagno. Vabbè, salgo qua e me lo bombo in due secondi, ragazzi. Eh, allora, da rivedere un attimino la mia mira, eh, da rivedere. Eh, questo era messo bene? Sì, c'ho lo scildone, ma non lo tocco, va? Rimango con le cura bomba, le impulsi e tre armi, dai, rimaniamo belli aggressivi. Uh, raga, un lama. Cioè, raga, sono stato pure fortunato a trovare il lama. Cioè, quindi, anche se avessi fatto build, cioè, praticamente, mi sarei ritrovato comunque con tanti maz. Perché, come vi dicevo prima, ho preferito farle in no build perché così, almeno, eh, pure se perdevo tempo a dover stare lì, nell'acqua, con la tempesta, almeno non dovevo perdere tempo pure. Oh, mio Dio, c'è gente. No, ma, sai, me l'hanno spaccata, eh? Aia. Oh. Madonna. Raga, comunque, ultimamente, cioè, che sto utilizzando un po' di più l'emesi, vi devo dire, lo sto totalmente rivalutando, eh. Oddio, no, c'è il compagno, mi sa. Dov'è? Cagano. Ah, ma sta lì giù, fermate. Allora, fermi un attimo. Me l'ha spaccata la ruota, sì. Allora, vediamo un po'. Però, col turbo ce la dovrei fare. Per un attimo si è continuato a girare verso la macchina, pensando che fossi ancora lì dentro. Eh, il cieco, ragazzi, si prende, eh. Facciamo così e via. Pure se non c'ha il mirino suo, che piace a me, eh, si va così. C'è quello col medaglione qui, attenzione. E comunque siamo già in 27, eh. Quindi la lobby si è svuotata abbastanza rapidamente. Ma, raga, ah, c'è Miascolo che sta tornando al suo punto, diciamo, di spawn. Poveri sti NPC, raga, che hanno fatto sta cosa, che poi tornano al punto dove sono spawnati. Ma che poi potrebbero tranquillamente farli despawnare e respawnare. Invece così li fanno tipo tornare a piedi. Poi inutile come cosa, la trovo. Uh, raga, lì stanno... Oh, raga, andiamo a pusciare, andiamo a pusciare. E qui abbiamo anche l'altezza del monte e ci abbiamo un bel vantaggio, eh. Ci abbiamo un gran bel vantaggio qui se ci riusciamo a mettere qua sopra. E col scecco li puntiamo appunto dall'alto, attenzione. Mmm... Ah, ok. Ok, quindi no, sono lì sotto, quindi sono più lontani del previsto. Pensavo fossero più vicini. Va bene, andiamo. Andiamo, ragazzi, andiamo. No, sparavano ancora dietro. Mannaggia, oh. Sto andando sempre dalla parte opposta rispetto a dove sono gli avversari. Oh, di pochissimo. Di nuovo di pochissimo. È da solo? Lo spero perché mi sono scoperto abbastanza. No! No, raga, no, il potere dell'acqua. Qualcuno col potere dell'acqua, raga. Oddio mio, devastante il dominio dell'acqua, ragazzi. Allora, qui abbiamo tutto, in realtà. Perfetto. Allora, uso un attino questi, uso la boccia e poi la faccio a cambio con quest'altra. Oh, comunque, raga, quel torno lo stavo prendendo, eh. Mi sa che era pure un botta da come si stava muovendo. Oh, no. Ah, eccolo. Round due. Sì, sì, raga, è palesemente un botta. Non lo stavo minimamente prendendo. Però quello che mi sta laserando col potere dell'acqua non è un botta, ragazzi, eh. Attenzione. Dove sta? Che vuole fare? Aia, aia. Eh, raga, non c'ho neanche il mirino che piace a me, mannaggia la miseria. Codo? Codo? Ma come... Raga, non è possibile un col potere dell'acqua, fa veramente troppo danno. Fa veramente troppo, troppo danno, raga, cioè. Ma di che stiamo parlando, su? Cioè, di che stiamo parlando, raga, cioè. Mamma mia, quanto danno fa. Allora, facciamo così. Non avevano pump questi? Senza pump. Ah, no, eccolo. Uno ce l'aveva. Mannaggia, raga. Che botte che mi hanno dato questi. Che medaglioni c'avevano? C'avevano un medaglione, giusto? No, non avevano un medaglione. Dove sono quelli con i medaglioni? Pensavo fosse uno dei team col medaglione. Invece se ne sono andati tutti e due gli altri col medaglione. Ah, no, stanno sempre qui vicino, hanno puntato all'isola. Eh, ci sta. Allora, adesso abbiamo il mirino, come piace a me, del cecchino. Un pump ancora più forte con il laser. E abbiamo anche il potere dell'acqua, eh. Quindi, potenzialmente, siamo dei bei carri armati. E siamo già in 15! Oh, madonna mia, raga! Una lobby aggressiva. No, ragazzi, qua c'è qualcuno con le catene di ate. Maledizione, le catene di ate. C'è qualcuno là sopra. C'hanno l'NPC che però gli è morto. E qualcuno qua sopra, che però si sta muovendo dietro quella roccia. E ho un po' di paura nell'avvicinarmi. Sta situazione non mi fa impazzire, ragazzi, eh. Però prova ad avvicinarmi, dai. Tanto ci siamo fatti presente, cioè, metà partita dentro l'acqua prima, voglio dire. Almeno la rendiamo un po' più movimentata, diciamo così. Ah, io prima... Eh, qua sotto... Eccoli, eccoli, eccoli quelli che avevo visto. Questo c'ha... Parca miseria. C'ha il coso di... No, raga, in mezzo alle gambe! Cioè, in mezzo alle gambe il colpo di prima. Eh, raga. Sì, vabbè. Adesso mi puscia? No, in realtà non mi puscia, raga. Pensavo fosse il classico traiardino pronto a pusciare chiunque. Però si vede che non è messo benissimo, eh. Quindi, se l'avessi hitato, avrei fatto un colpaccio. Vabbè, raga, troppa... Troppo movimento qui? Oserei dire di sì. È troppo pericoloso, forse. Andiamo verso il centro safe, va? Nel frattempo siamo già in dieci, eh. Cioè, giusto per farvelo notare, va bene? Ok, ragazzi. Ok. Tra l'altro nessuno ha preso il medaglione di Ade. E vabbè, quello di Ares ci sta. E stranamente, invece, qualcuno ha preso quello di Zeus. Ok. Eh, stanno sparando molto lì. Stanno sparando. Questi sono riavvicinati al bunker. No, stanno prendendo l'altezza sulle montagne, mi sa, eh. Allora, no, 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 stanno qua sotto. Quindi, se riesco a salire là sopra... Potrebbe essere intelligente usare adesso un impulsi per sbrigarmi e arrivare lì, eh. Però non mi va di sprecarla, essendo da solo. Se fossi stato in duo... Pure, pure. Ma così... No, eccolo. Molto difficile quello che volevo fare. Eh, vabbè. Eh, sì, vabbè. Che... No. 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 Ok. Ok. Sì, vabbè, raga. Cioè, ma... Cioè, ma di che stiamo parlando? Questo non era... No, mi sta sparando... Ah, sempre lui. È quello di prima. Sì, sì, col potere dell'acqua. Maledetto. Maledetto. Eh, raga, mi tocca, mi tocca. No, stanno sparando pure qui. Eh, ma io devo... Devo curarmi, ragazzi. Non ho neanche più... I cosi. Come si... Dai, vabbè. Il bro... Il bro... Non mi lascerà più stare. Il bro non mi lascerà assolutamente più stare, ragazzi. È ufficiale. Il problema, raga, per me adesso sono le cure. E niente, raga. Ormai tocca... Da quando ci sono tutte queste armi fortissime... Tocca assolutamente portarsi... Più di una cura. Che è sto rumore? Ok. Ok. No. No, l'ho lisciato. È un altro team ancora, eh, rispetto a quello lì che mi stava laserando prima col potere dell'acqua. Io ve lo vorrei far notare. Un altro team ancora. Questa cosa vi vorrei far notare. Madonna santa, raga. Cioè, pure questo mi stava distruggendo... Distruggendo... Così, in due secondi. Eh, raga, provo magari a tenermi una banana e il boccione. Anche se, oddio, il... No! Potere dell'acqua così in endgame potrebbe essere pericoloso. Non ci voleva stare buttata, tra virgolette. Non ci voleva per niente. Anche perché... Eravamo rimasti in cinque con quattro team vuol dire che c'era solo un team da due. Ed era buonissimo che cosa per noi. Non ho più movement, non ho più nulla e la safe non è vicina. Quindi tocca andare verso di là. Che partita difficile, ragazzi. Alla fine della fiera la challenge si è dimostrata essere proprio l'ultimo dei problemi, eh. Se vedete mi tocca usare la banana per muovermi più velocemente. Perché se no non ci arrivo. O comunque anche la boccia. No, raga, se no non ci arrivo, eh. Se no non ci arrivo. Purtroppo per come è fatto il Monte Olimpo, io adesso devo fare tutto un giro del cavolo. Perché se passavo di là, ovviamente era un macello. E adesso togli un botto la safe, eh. Cioè se non avessi tenuto la banana, raga, non ero... Non ero arrivato. Cioè non ci riuscivo ad arrivare in se... Ah no, togli due, raga. Pensavo toglieste già cinque. Vabbè, comunque probabilmente non ci sarei arrivato. In ogni caso... Eh, vabbè, devo di nuovo tornare là sopra. Mannaggia la misera, raga. Difficilissima pure la safe alla fine. Fino alla fine. No, raga, c'è uno qua. Oddio. Ma come non l'ho preso? Ma che stava facendo? Raga, ma non era un... O era un bot? Sì, forse era un bot, raga. Non lo so. Però molto strano, eh. Cioè il bot che rimane lì così dentro la tempesta. Vabbè. Era il nostro ultimo problema, comunque. Ora io da qui... Se non avessi avuto la boccia, come facevo? Non lo so. Però, raga, con la safe chiusa qui... Sono praticamente obbligato a fare questi movimenti un po' così. Spero che dopo sia un attino più facile e che non si vada a chiudere là sopra, perché sennò è il delirio, eh. Allora, vediamo un po' dove stanno a sparare. No. No, raga. No! No. Eh, raga, che devo fa'? Sono chiuso, eh. Sono totalmente chiuso. No. Mmh. No! Ma no! Meso un castello, non ci posso credere. Ma perché non mi ha fatto camminare e mi ha tipo placcato sulla colonna? Cioè, in che senso sono rimasto placcato sulla colonna? Non ci posso credere. Che pizza, ragazzi. Comunque, ultimamente sto avendo un botto di problemi nel muovermi vicino ad altre strutture. Cioè, ogni volta mi si blocca il personaggio e non capisco come. Cioè, non capisco niente come. E comunque è il pump, quello lì è troppo forte. Dunque, niente, io volevo semplicemente fare così dietro la colonna e non beccarmi la laserata, ma... Non ce l'ho fatta! Let's go! In realtà mi ha messo ansia quello che mi ha sparato da di là, perché sennò questo l'avrei pushato subito. Ma va bene. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, vi ricordo il codice creatore GGYPSI, non ti tutto grande, tutto attaccando nei cozzoggetti di Fortnite, fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora nulla aveste fatto. Lasciando un bel mi piace per supportare queste challenge e questo fine stagione, se così vogliamo chiamarlo. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuali!